Intoppi tra l'entourage di Busellato e il Padova da un lato, inserimento del Foggia dall'altro, il Taranto resta alla finestra in merito al centrocampista classe 93 per il quale anche in caso di rescissione in pole position biserebbe adesso il club Dauno che dopo aver regalato a Gallo il colpo vacca vuole garantirgli un altro profilo di spessore per la zona nevralgica. Busellato quindi si allontana non ancora in maniera definitiva ma sicuramente significativa. Il DS Evangelisti già dalle scorse ore ha così iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di un'alternativa all'altezza. In rialzo le quotazioni di Luca Crecco classe 95 attualmente in forza al Pescara ma finito ai margini del club abruzzese. Caratteristiche pressoché simili a quelle di Busellato, Crecco sarebbe un profilo valido di categoria in grado di garantire il salto di qualità. Incombe intanto il derby di Andrea e Capuano alla ricerca delle giuste soluzioni per ovviare alle assenze di Evangelisti e Tommasini. Ancora una chance dal primo minuto per Formiconi ma questa volta come braccetto a destra mentre in avanti scalpita Bifulco che agirebbe a supporto della prima punta. A tal proposito favorito Rossetti su Semprini. Per il resto non sono previste particolari modifiche rispetto all'undici sceso in campo contro la Turris.